Ciao a tutti, sono Massimo Pantiglioni, amministratore IT presso Lincoln Electric Italia. Già passato un anno da quando ho avuto l'onore di unirmi a questa straordinaria famiglia e oggi desidero condividere con voi il percorso e le esperienze che ho vissuto finora. Lincoln Electric mi ha dato la possibilità di realizzare un sogno, lavorare in un'azienda internazionale e collaborare con grandi professionisti. Attualmente mi occupo di fornire supporto di secondo livello alle nostre sedi italiane e al network dei lavoratori remoti. Inoltre, insieme ai colleghi da tutto il mondo, stiamo portando avanti progetti di avanzamento tecnologico che ci permetteranno di rimanere al passo con gli sviluppi del settore. La nostra azienda è in continua evoluzione e nell'ultimo anno ha assistito a numerose innovazioni. Automazione, intelligenza artificiale e tecnologie di comunicazione sono fondamentali per lo sviluppo dell'azienda e quotidianamente ci impegniamo nel condividere conoscenze e soluzioni per affrontare le sfide nel mondo informatico. In Lincoln Electric ogni membro si dedica a eccellere nel proprio lavoro e a supportare la crescita dell'azienda, anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Per questo sono estremamente orgoglioso di far parte di questo gruppo e di poter costruire insieme il nostro futuro, che sarà anche il vostro. Voglio quindi ringraziare tutta la famiglia Lincoln per l'incessante impegno e la passione che dedica al proprio lavoro.